Stargate in Baghdad e Teheran. Quando l'Iraq venne invaso nel 2003 furono divulgate motivazioni che sostenevano il bisogno della difesa della libertà, la fine di un regime sanguinario, il pericolo, che Saddam Hussein avesse la bomba atomica. Solo nel web, ma in tutto il mondo, vennero pubblicate informazioni che raccontavano una storia diversa, con l'interesse ad accaparrarsi le ricchezze del paese in primo piano. Alcuni articoli andarono oltre, molto oltre descrivendo la zona irakirana Afghanistan come ricca di un'antica fonte di energia cosmica, con la presenza di porte delle stelle ed anche di città multidimensionali. Che cosa è uno Stargate? Nella mitologia cinematografica viene spesso rappresentato come un grande anello variamente luminoso superando il quale si sparirebbe in un'altra dimensione, o da quale potrebbero fare ingresso dalla nostra realtà, entità aliene, UFO e quant'altro viene poi periodicamente avvistato nei nostri cieli. Si sa che il cinema prende spunto da tutte quelle realtà, che non possono ancora essere ufficialmente confessate, e che spesso la cinematografia può essere utile ad abituare le popolazioni a nuove realte in procinto dimostrarsi. Come molti sanno nel dollaro americano vi sono simboli, che richiamano alla massoneria, e che rappresentano nella moneta quello che è sempre stato il potere più forte radicato negli Stati Uniti e la sua cultura. Se si osserva una banconota irachena al tempo del regime di Saddam, non si potrà che rimanere incuriositi da alcuni disegni rotondi, che potrebbero rappresentare uno Stargate, ma soprattutto dalle immagini di un inedito sistema solare dove viene considerato un pianeta in più, quel Nibiru più volte raccontato da Sicin, lo studioso della civiltà sumera. I musei di Bagvad furono sapientemente saccheggiati durante l'invasione, erano ricchi di antiche tracce ed informazioni risalenti ai Babilonesi, e che rappresentavano contatti con entite extraterrestri. La zona è storicamente sempre stata interessata da tensioni e da brame di possesso, che vanno oltre i giacimenti di petrolio visto che furono mascherati da lotta agli infedeli già ai tempi delle crociate, ed i nazisti in questi luoghi cercarono la coppa del potere. Forse il Sacro Graal è una porta dimensionale, un anello, che apre uno spazio temporale. Da questi portali sarebbe possibile l'ingresso di entità provenienti da mondi più evoluti del nostro, che entrando in contatto con l'umanità potrebbero prospettare una realtà diversa da quella che si sta rapidamente evolvendo sul nostro pianeta, con guerre, carestie, terremoti, uragani e inondazioni. Un contatto con fratelli più evoluti porterebbe ad instaurare un nuovo ordine mondiale, relegando gli attuali guardiani della libertà ad un ruolo secondario. In queste settimane, da più fonti arriva l'informazione di un possibile attacco preventivo all'Iran della grande parte di Israele, Stati Uniti e Inghilterra, gli attuali detentori del potere, anche di quello occulto, nel nostro pianeta. Il motivo ufficiale è uno dei soliti forse il governo di Teheran alla bomba, forse no sicuramente è ricca di petrolio e altre ricchezze, che fanno gola e di grandi si sentono minacciati, sembra che una mitologica apertura dei portali nel 2012 sia un incubo notturno per chi è il cuore appesantito dal potere. Stiamo attenti agli avvenimenti, in una pronta attesa, dalle città delle mille e una notte può arrivare la luce. Tratto dal sito internet Cambio il mondo.